Sono giorni che lavoriamo per la realizzazione della fase 3, soprattutto una programmazione che darà impulso a questa città, perché questa città, ricordiamo, vive di turismo e dunque ha bisogno necessariamente di non perdere la stagione estiva. Stiamo veramente portando in campo tutte le risorse che siamo riusciti a recuperare, sicuramente l'abbattimento di alcuni tributi locali, dunque la riduzione del 16% della Tari, ma cosa più importante, con l'esenzione della TOSAP e della Tarsu, abbiamo veramente creato la possibilità a tutti di prendere spazi e di garantire quel turismo che noi portiamo avanti ormai da decenni. Indubbiamente abbiamo abbattuto le tariffe anche lì, tariffe sicuramente più ridotte, e abbiamo destinato il 30% degli utili proprio agli operatori turistici per garantire lo storno delle difficoltà anti-Covid e dunque siamo convinti che immetteremo sicuramente liquidità e risorse per tutti gli eventi possibili sul nostro territorio. L'isola pedonale in massima sicurezza era elemento indispensabile e fondamentale per dare spazi a tutti e soprattutto far vivere questa città. Garantiremo il fine settimana, veredì, sabato e domenica, dal 1 luglio, l'isola pedonale sull'intero tratto del lungomare e poi successivamente nel periodo di ferragosto, dal 3 al 20 agosto, daremo l'opportunità a tutta la città di vivere i suoi luoghi senza auto. Assessore, una scontistica particolare con una card di fidelizzazione del turista a Silvi? Stiamo creando questa card che dia la possibilità ai commercianti, agli operatori turistici e a chiunque voglia aderire di fare uno sconto fino al 10% al turista che arriva a Silvi o anche fino al 20% se si tratta di un operatore medico, operatore sanitario o comunque anche carabinieri, insomma tutti coloro che hanno contribuito durante il Covid a darci una mano, un aiuto in questa situazione di emergenza. Per queste persone che dà la possibilità, non solo per loro di avere lo sconto, ma per chi aderisce a questa card, di prendere visibilità perché il comune farà la pubblicità per questa card, totalmente gratuita per gli operatori turistici o comunque commercianti che vorranno aderire. Novità anche nell'ambito dei tributi? Abbiamo dato l'esenzione totale del suolo pubblico a tutte le attività, non sono quelle di somministrazione all'ivendi come prevedeva il decreto, oltretutto il decreto ne prevede un'esenzione parziale, ma totalmente gratuita anche della taria aggiuntiva perché chi prende il suolo pubblico dovrebbe pagare per l'estensione anche una quota in più di rifiuti. Inoltre lo abbiamo esteso all'attività artigianale, agli ambulanti, quindi chiunque farà un'attività commerciale sul suolo pubblico quest'anno anche le attività di fitness, palestre, ludico-ricreative non pagherà un euro e quindi avrà totalmente gratuito la possibilità di estendersi.